assassinato da un finnico santo enrico di upsala trapassato intorno al 1156 inglese accompagnò nicola brexpia che divenne più tardi papa adriano sesto in svezia e norvegia fu vescovo di upsala in svezia membro di una spedizione guidata dal re santeri che nono in finlandia fu assassinato da un finnico che aveva scomunicato canonizzato nel 1158 e venerato come martire e santo patrono della finlandia perché santo commento perché ha comunicato l'amore adeguato a quei tempi ea quei paesi